vorrei dire una cosa al sindaco di roma ignazio marino ma non al sindaco all'uomo all'uomo ignazio marino mai della giardina ma si povera gli altri ignazio c'è tu fai un sindaco a roma ti rubi solo 20 mila euro è chiaro per favore non si è mai visto non si è mai visto ma manca i tempi capite gli imperatori giulio cesare di beria che ne so nero 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 se nero stessi caro invece picciare roma ignazio che la picciasse a te ma per favore come si fa come si fa e poi si sapeva perché mafia capitale l'intercettazione questo ma diventa sindaco qua non facciamo più niente si sapevi capito no è io però ho capito qual è il tuo problema perché tu essendo di genova si stai a dirci pure quanti da rubare capito no ma come si fa fai un sindaco per favore solo 20 mila euro la cosa più assurdo poi sai qual è che le restituite pure che questa è una cosa proprio guarda proprio allucinante a non dare nel capo e nel capo e nel capo e nel capo e nel capo capito no questo è visto a bassolino prendi sempre a bassolino dopo dieci anni ma si è candidato a votare sindaco capito no perché le cava combinata questi sono uomini coraggiosi capito no vedi esempio a così si fa vieni a napoli chiede a fare due lezze guardate qua se la curva pigiava ignazio non mi fai a dormire questa roba veramente non mi fai a dormire ma come si fa fai così nel capo e poi tu poi tu che sei un chirurgo e fate attenzione quando fai su di preparazione ignazio hai capito no nazione perenne ti saluto ignazio veramente mi dispiace come uomo mi dispiace assai mi dispiace assai ti auguro buone cose ciao ignazio